Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giappoli TV. Oggi vi parlerò della storia di Takahashi Rumiko, che è una mangaka giapponese. Grazie a tutti per la richiesta nei commenti. Lei aveva il numero di richieste maggiori, quindi oggi farò il video su di lei. Ma non vi preoccupate, piano piano farò anche gli altri mangaka. Quindi votate nei commenti per il prossimo, per favore. Farò quello che sarà votato di più. Ho già fatto la storia di Toriyama Akira, il mangaka di Dragon Ball e Dr. Slump Arale. Vi lascio la playlist dei mangaka giapponesi in descrizione. Quindi guardate anche quella dopo questo video. Oggi impariamo la storia di Takahashi Rumiko e le sue leggende. Se conoscete altre informazioni, condividete con tutti nei commenti. Lascio il suo account di Twitter in descrizione, quindi chi si interessa guardatelo. Ok, iniziamo. Takahashi Rumiko è nato 10 ottobre nel 1957. A Niigatashi, nella prefettura di Niigata. Lei è una top mangaka leggendaria in Giappone. Senza riguardo al sesso, prescindendo dall'età e senza tener conto della nazionalità, è sostenuta da un vasto pubblico. Ha ottenuto un successo dopo l'artoro, come con Ursei Yatsura, Maison Ikoku, Inuyasha, e Kyouka e Norinne, eccetera. Anche adesso sta pubblicando manga a puntate sui Shonen Sunday. Si chiama Mao. Lei ha due fratelli. Leggendo i loro Shonen manga, ha avuto l'opportunità di essere una mangaka. All'inizio spesso leggeva i manga di Kezuka Osamu. Dopo ha continuato con i manga di Ikigami Ryōichi. Ed era totalmente assorta nel leggere i suoi manga. Ha lasciato un commento nel quale afferma, posso dire di essere diventata una mangaka per incontrarmi con Ikigami Sensei. Dopo essere diventata una studentessa della scuola media, ha iniziato a pubblicare i manga. Quando era studentessa della scuola superiore, ha provato a pubblicare il suo manga che aveva circa 40 pagine sul magazine, ma non è stato accettato. Quindi a quel punto ha rinunciato ad essere una mangaka professionale ed è entrata all'università che si chiama Nihon Joshi Daigaku. Per frequentare questa università si è trasferita a Tokyo e ha curato il club della ricerca dei manga. e ha ricominciato a fare l'attività creativa. Alla fine del primo anno di università, lei è entrata nella scuola privata di mangaka, che si chiama Gekigasonjuku, che è stata fondata da Koikei Kazuo. È entrata a metà del primo anno di scuola, ma subito è stato notato il suo talento. Le hanno detto, puoi essere professionale. Ed è diventata la tirocinante speciale. Al terzo anno di questa scuola, c'era anche Hori Yuji, quello di Dragon Quest. E lui ha detto in un'intervista che erano molto utili le cose che ha imparato in questa scuola per la sceneggiatura di Dragon Quest. Al terzo anno di università, Takashi ha ottenuto un premio riguardante i manga con Kattena Yatsura. Nel 1978 ha iniziato a pubblicare Urusei Yatsura, sul Sunday. In quel periodo lei era ancora una studentessa, quindi lo pubblicava irregolarmente, ma nel 1980, dopo essersi laureata, lo ha pubblicato settimanalmente. Nello stesso periodo ha iniziato a pubblicare l'altro manga che si chiama Maison Ikkoku. Sul big comic Spirits mensile. Nel 1981, Urusei Yatsura è diventato un anime. Per questo è diventata una dei mangaka più popolari in Giappone. È diventata una mangaka leggendaria, con tanti manga famosi. Ok, ora vi spiegherò le sue leggende. La prima è che si dice abbia creato il nuovo genere che si chiama Rabu Kome. Love Comedy. Cioè, amore comico. Non so se dice così in italiano. E questo genere è diventato famoso. In quel periodo, negli shonen manga, spesso si trattava dello sforzo e dell'amicizia. Era difficile avere successo con il romanzo sul shonen manga. Però con Urusei Yatsura, che il suo lavoro di debutto, ce l'ha fatta. Ed ormai Rabu Kome è uno tra i generi più popolari. Parlando di Rabu Kome di Takashi, non si può non nominare Maison Ikkoku. Maison Ikkoku è spesso presentato da tante persone come il capolavoro di Rabu Kome. Anche è un diverso tipo di Rabu Kome rispetto a Urusei Yatsura. Urusei Yatsura è il Rabu Kome studentesco. Fondamentalmente, ogni episodio è completo. I protagonisti non invecchiano. Ci sono gli episodi in ogni stagione dell'anno. E si ripetono. La relazione dei protagonisti non è chiara. Invece Maison Ikkoku è diverso. I protagonisti invecchiano e crescono. La relazione dei protagonisti è chiara. Alla fine si sposano e finisce con Happy End. Nello stesso momento ha pubblicato due diversi tipi di Rabu Kome. E con entrambi ha avuto molto successo. Quindi tanti dicono che questa cosa è leggendaria. La sua concezione del mondo particolare è spesso detto Rumik Wardo. La seconda leggenda dice che tutti i manga che pubblica sono un successo. Nel 1987 ha finito di pubblicare E circa sei mesi dopo ha iniziato a pubblicare Anche questo ha avuto un gran successo. Lo ha pubblicato per nove anni in 38 volumi. Ed è stata adattata anche ad anime. Nel 1996, in primavera, è finito Ramma. L'inverno dello stesso anno ha iniziato a pubblicare Inuyasha. Fino al 2008, per 11 anni e mezzo. Ha pubblicato 56 volumi di questo manga. È stato fatto l'anime ed è stato anch'esso un gran successo. Dal 2009 al 2018 ha pubblicato Kyokai no Rinne in 40 volumi. Anche di questo manga c'è l'anime ed è stato un successo. Ce ne sono tanti altri. Quasi tutto quello che ha pubblicato è diventato un anime. E tutto quello che ha pubblicato settimanalmente è diventato un anime di gran successo. Nel mondo dei mangaka, se un manga è un gran successo e viene adatto ad anime, Può essere già un mangaka popolare. Ma Takashi ha fatto tanti manga, uno più famoso dell'altro. Perciò tanti dicono che questi risultati sono la sua leggenda. La terza è che per 40 anni non ha preso tanti giorni liberi. Dopo che ha fatto il suo debutto, sono passati più di 40 anni, ma ancora sta lavorando quasi ogni giorno. Tra una pubblicazione settimanale di un manga e quello successivo, Ha avuto un periodo dei sei mesi ad un anno circa di stop. Ma stava pubblicando manga di novelle, invece di quelli settimanali. Anche non ha mai sospeso una pubblicazione a causa di una malattia. O non ha mai smesso di pubblicare a causa della mancanza di idee. Takashi spesso risponde nell'intervista così. Se c'è qualcosa di più interessante dei manga, vorrei conoscerla. Io non capisco il sentimento di non voler disegnare i manga. Quando li disegno, per me è il momento più divertente. Dice così. Solitamente se si fa la stessa cosa per più di 40 anni, ci si stufa e si fa un'altra cosa. Ma lei ha ancora questo sentimento. Quindi può continuare a fare del suo meglio. La quarta è che lei è la prima mangaka ad aver avuto la tiratura di più di 200 milioni. Nel 2017 il totale della tiratura dei suoi manga è arrivata a più di 200 milioni. Non c'è nessun mangaka giapponese donna come lei. Era la prima volta per una mangaka donna. Mangaka è un lavoro pesante fisicamente e mentalmente. Ma sta continuando a pubblicare i manga popolari da così tanto tempo. E ce l'ha fatta. Quindi questa cosa è assolutamente una leggenda. La quinta è che lei è una scrittrice che scrive velocemente. Dipende dallo stile o dalla storia, ma impiega circa un'ora per disegnare una pagina. Lavora otto ore al giorno e finisce 16 pagine in due giorni. Questa velocità è tre volte più veloce rispetto agli altri mangaka. Lavorava così veloce, con la coscienza della professionalità alta, a volte la chiamano demone del lavoro. Cioè, lavorasse veramente. Però in realtà l'atmosfera dello studio era amichevole. L'assistente di Ursei Yatsura diceva, Rumiko Sensei sempre diceva qualche gag. Ed anche è popolare che le piacciono i comici. Soprattutto le piace Downtown. Chi ha creato LOL su Amazon Prime Video. Mentre lavorava, a volte guardava la TV comica. Le sue assistenti erano tutte donne, perché così non doveva avere ritegno di fare qualcosa. La coscienza della professionalità alta, creare l'atmosfera bella nello studio e disegnare più velocemente degli altri. Queste cose si sono fuse bene e si sono tradotte in buone opere. Ok, queste sono le sue leggende. Ancora ce ne sono tante. Se conoscete qualcosa in più, condividetela nei commenti per favore. Ed anche votate per il prossimo mangaka. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi a questo canale. Anche seguite i miei social net per favore. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. HONAAA! 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 HONAAA!